Ancora piloti seccensi protagonisti alle varie competizioni motoristiche di carattere regionale e nazionale. Calogero Damanti, su Ford Fiesta, ha preso parte alla 65esima edizione della salita dei Monti Blei, ultima gara del campionato velocità in salita in Sicilia, per Calogero Damanti la sesta posizione in classifica. Altri seccensi invece hanno gareggiato alla 27esima edizione dello slalom Torregrotta Rocca Valdina, terz'ultimo appuntamento in calendario, valevole per il campionato siciliano di specialità e per il trofeo d'Italia Sud. La gara, organizzata dalla Top Competition, è stata vinta da Girolamo in Gardia su Formula Gippard Suzuki, davanti a Luigi Vinaccia su Osella Honda 2000 e a Salvatore Arresta su Gloria B5 Evo Suzuki. Questi risultati dei piloti di Sciacca attraverso le fotografie di Manuel Marino. Sfida all'ultimo centesimo di secondo nella categoria Racing Start, Massimo Sant'Annera ha sfiorato la prima posizione per pochi decimi. Alla fine ha portato a casa la terza posizione di gruppo al termine di una bella prestazione. Tra le vetture Racing Start Plus, ottima gara per Ignazio Bonavires che ha vinto sia il suo gruppo sia la sua classe di appartenenza, a bordo della sua nuova auto Peugeot 106+. A seguire, in classifica di categoria, il fratello Lorenzo Bonavires che ha corso sulla sua Renault Clio. Per lui il secondo posto di gruppo e primo di classe. Sempre sul Renault Clio, in gara anche il saccense Giovanni Muscarnera. Per lui il quarto posto di gruppo e il secondo posto di classe a termine di buone prove cronometrate. Nella classe N1004 troviamo invece Antonino Bellitti su peggio 106. Per Bellitti la terza posizione di classe. Tra le vetture E2SS, infine, buona prestazione anche per Antonino Di Matteo su Formula Gloria C8F Suzuki. Per Di Matteo, che è stato il migliore tra i saccensi, il quarto posto di gruppo e la nona posizione in classifica assoluta.